Il turismo sostenibile è una società Benefit, costituita appositamente per accompagnare CSV nel progetto Voce. Noi siamo i partner che ci occuperemo di sviluppare e gestire la parte di accoglienza, quindi con l'ostello, un ostello che sarà un ostello moderno, un ostello dedicato al mondo del terzo settore ma non solo, con circa 80 posti, con strada qualitativi di alto livello e con una grossa attenzione alla relazione con i nostri ospiti. Oltre alla parte ricettiva ci occuperemo anche della gestione della parte di ristoro, quindi dell'offerta di somministrazione alimenti e bevande con un forte accento al chilometro zero, anche qui all'attenzione nella scelta dei prodotti e alla costruzione di una rete con partner territoriali come condotte slow food piuttosto che gas e piccoli produttori.